arriviamo quindi al museo come come nasce invece il il museo dell'auto di torino il museo ha una una lunga storia perché intanto è uno dei più risalenti diciamo è uno dei più storici esistenti al mondo perché l'idea del museo nacque nel 1932 a cesare goria gatti ea roberto biscaretti di ruffia che erano stati anche tra i fondatori della fiat erano stati roberto era stato anche il il fondatore dell'automobile club il primo mobile club d'italia che era qui a torino inizialmente poi diciamo in diverse città e poi nacque diciamo quello di roma nazionale quindi il i due presentarono l'idea di realizzare una mostra nel 1932 ad una conferenza e diedero in carico al figlio di roberto che era carlo biscaretti di ruffia di mettere insieme delle vetture per fare una mostra di auto d'epoca le auto di auto d'epoca di auto perché non erano ancora né oggetti da collezione diciamo né oggetti ancora così vetusti insomma anche se l'automobile aveva cominciava avere una una cinquantina d'anni diciamo così era nata alla fine dell'ottocento quindi il carlo comincia a raccogliere le vetture e fa la prima mostra nel 1933 a milano in quell'occasione nasce il museo il museo dell'automobile che viene denominato da venito mussolini immediatamente museo nazionale quindi la collezione diventa museo nazionale non c'era ancora l'edificio esisteva solo la collezione che così raccolta e continuava ad aumentare adesso vi racconto poi anche come vengono raccolte queste vetture vengono conservate sotto gli spalti dello stadio comunale di torino proprio qua vicino è una situazione assolutamente come dire precaria anche esposte alle alente del vero ora è vero che in quegli anni non si aveva ancora la percezione del valore che queste vetture poi avrebbero avuto nel tempo ripeto non erano ancora oggetti da collezione però c'è voluto quasi ci sono voluti quasi 30 anni prima che le vetture la collezione avessero una sede dove potessero essere effettivamente sposte contattate come si come si deve e questa sede dove siamo oggi qui su corso unità d'italia fu individuata realizzata proprio in occasione del centenario dell'unità d'italia quindi nel 1961 fu inaugurata a novembre del 1960 ma l'occasione fu il centenario dell'unità d'italia in quell'occasione la città di torino diede assegnò questo lotto questo terreno alla costruzione dell'edificio perché ospitasse la collezione di fiscaretti e infatti questo è uno dei pochissimi credo musei forse uno dei pochi al mondo che è nato per essere la sede di un'esposizione museale c'è molti su molte sono sedi che vengono destinate a ospitare la collezione ma sono sono pochi i musei no i bug e no eccetera che costruite la maggior parte sono edifici che vengono destinati a questo posto quindi è stato veramente un grandissimo risultato purtroppo il nostro fondatore viscaretti non riuscì a vedere l'inaugurazione della sede perché morì pochi mesi prima morì nel 1959 pochi mesi prima che il museo venisse inaugurato nel 60 allora viscaretti non era un collezionista cioè la peculiarità del nostro museo della nostra collezione è che è proprio nata per raccontare alle generazioni future la storia dell'automobile quindi nasce prevalentemente su donazioni cioè biscaretti riuscì a coinvolgere a motivare a questa missione della 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 del museo di creare questo museo sia i proprietari dell'epoca che le case costruttrici e lui proprio le contattava chiamava scriveva se sapeva di qualcuno che aveva una vettura particolare che poteva essere interessante per raccontare una certa evoluzione un certo stile eccetera lui chiamava diceva mi serve quella vettura perché stiamo facendo il museo dell'automobile donate la tant'è vero che anche enzo ferrari che notoriamente non era interessato a costruire il proprio museo che era sempre no se lo sai bene e federico è sempre orientato pensava alla prossima vettura alle cose eccetera quindi lui non aveva conservato praticamente nulla vendeva tutto quello che poteva perché aveva sempre bisogno ovviamente di sostenere le proprie ricerche e notazioni e la partecipazione alle gare piloti e quant'altro quindi e poi non voleva sostanzialmente che i concorrenti vedessero quello che faceva quindi non mandava tanto in giro neanche soprattutto le vetture da corsa beh lui donò a biscaretti al nostro fondatore quattro vetture straordinarie di formula 1 le prime quindi la prima che vinse il mondiale con ascari poi lo raccogliamo quindi ci sono delle 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 storie non so per esempio il la vettura protagonista del film il viale del tramonto fu donata fu restituita all'italia dagli studios di hollywood non so la lancia le case costruttrici siamo tutte venivano coinvolte da biscaretti già stiamo facendo il museo dateci le vetture importanti per raccontare questa storia così anche i proprietari non so per esempio la prima donna con la patente in italia che fu la francesca mirabile mancusio la contessa francesca mirabile mancusio siciliana lei donò a biscaretti la propria esatta fraschini e anche la sua patente del 1913 che infatti è esposta qui al museo lui era un grande aveva una grande grande entusiasmo chiaramente biscaretti era un pioniere turista questa visione aveva questa grandissima passione per l'automobile lui faceva un altro mestiere era un freelance un uomo di marketing faceva campagne pubblicitarie faceva queste cose e lui si dedicò dedicò comunque la vita a raccogliere le vetture conservò anche tutta la documentazione che si scambiava con i proprietari o con le case quindi insomma abbiamo veramente un lavoro fantastico ed è veramente una fatti una collezione la nostra che oggi conta circa 200 vetture o più di 200 vetture da oltre 80 case automobilistiche ma non sono solo vetture di una certa tipologia o non so di un particolare valore abbiamo anche le 500 la bianchina il maggiolino sono proprio le vetture che che hanno significato la 600 multipla sono le vetture che hanno significato qualcosa nel cambiamento anche nell'evoluzione sociale quindi è proprio questo il valore anche della collezione oltre al fatto che ci sono dei pezzi unici prestigiosissimi e poi lo vediamo ma ci sono veramente abbiamo una fra le collezioni più importanti al mondo di autode nasce così nasce nasce nel 1933 come museo nazionale poi la sede nel 1935 poi è stato ristrutturato ampliato il percorso completamente rivisto nel 2011 quindi abbiamo riaperto esattamente dieci anni fa in questa nuova configurazione nuova versione e ci tengo a dirlo fu inserito dal times nella nell'elenco dei primi 50 musei più belli al mondo da visitare questo museo veramente straordinario